Stiamo lavorando tutti per una de-escalation, bisogna impedire assolutamente che il conflitto tra Israele e terroristi di Hamas diventi un conflitto regionale, quindi serve grande prudenza, grande senso di responsabilità, tutte le iniziative del governo italiano vanno in questa direzione, fermo restando il sostegno a Israele che ha il diritto a eliminare le centrali di Hamas dove vengono lanciati missili contro Israele, ma siamo anche preoccupati della popolazione palestinese, stiamo facendo il massimo anche per i nostri connazionali, non può esserci un cessato il fuoco, si potrebbe trovare un accordo per un'eventuale breve sospensione per far uscire la popolazione civile o i cittadini che hanno anche doppio passaporto, penso anche al gruppo di 19 persone tra i quali ci sono 14 italiani. Diciamo soltanto che bisogna evitare di colpire la popolazione civile, poi toccherà all'esercito israeliano vedere il da farsi, soprattutto al governo israeliano che cosa fare, questo è l'aspetto più importante e più delicato, ma non possiamo certamente chiedere a Israele di non difendersi, di non colpire le centrali dove partono i missili che sono diretti, anche questi contro la popolazione civile, non è che sono diretti contro obiettivi militari. Io credo che la von der Leyen abbia avuto ragione ad avere una posizione ferma perché un conto sono le ragioni del popolo palestinese, un conto è un'aggressione vile andando a cercare casa per casa donne, bambini, innocenti, non è stato un attacco militare contro delle postazioni militari, è stato un attacco militare cruento che puntava ad avere una reazione violenta, quindi a provocare una reazione da parte di Israele, ma decapitare neonati, prendere per ostaggi novantenni è veramente davili, detto questo credo che sia stato giusto da parte di tutti condannare un attacco del genere, ricordiamo che è a massa che ha scatenato il conflitto di questi giorni.